Il Molise è sempre più esposto agli interessi economici della criminalità proveniente dalle vicine province di Foggia, Caserta e Napoli. I presidi delle forze dell'ordine non devono essere smantellati per la sicurezza di cittadini e attività produttive. Le organizzazioni criminali delle vicine regioni Puglia e Campania hanno preso di mira il Molise, una realtà da qualche tempo indebolita nella presenza di presidi delle forze dell'ordine, mezzi e personale a disposizione per contrastare la criminalità. Le ultime relazioni presentate in Parlamento da parte della divisione investigativa antimafia hanno accertato l'esposizione delle due province alle infiltrazioni della Camorra, in alcuni casi dell'Andrangheta e della mafia foggiana. Spaccio di stupefacenti, rapine negli uffici postali e negli istituti bancari, estorsioni, reati ambientali come l'occultamento di rifiuti tossici provenienti da altre realtà sono fenomeni che non possono essere più tralasciati senza intervenire alla radice. Fenomeni che preoccupano i titolari di aziende industriali, commerciali e agricole, più esposti a rischio di ricatti, come di recente scoperchiato dalla Compagnia Carabinieri e dalla Procura della Repubblica di Larino, nell'area del Basso Molise e dei paesi del cratere al confine con la Puglia. La presenza di associazioni malavitose su un territorio già in crisi rende purtroppo ancora più difficile la ripresa economica generale. Da più parti viene richiesto il rafforzamento dei presidi di polizia e quelli della giustizia, ma anche una mobilitazione generale. Qualsiasi episodio di stampo mafioso va scongiurato, il tessuto imprenditoriale va aiutato e consentendo che anche i liberi professionisti operino in tranquillità e trasparenza negli obblighi contro il riciclaggio. Alle istituzioni il dovere di non abbandonare i cittadini. Grazie.